Bruno Zanatta del Comitato Acqua Bene Comune, siete qua davanti alla Prefettura, perché? Qual è la situazione? Protestare contro il comportamento dell'acce gas EPS, sostanzialmente per chiedere il rispetto della legalità. Noi stiamo facendo l'autoriduzione della bolletta dell'acqua a seguito del referendum del 2011 che ha eliminato il profitto sull'acqua. Per cui togliamo attualmente il 21% dalla bolletta autoriducendola. Ora, l'acce gas EPS, come altre aziende in Italia, non hanno rispettato il referendum e fin dall'indomani dell'esito referendario hanno continuato a mettere in bolletta questa voce che invece doveva essere tolta. L'atteggiamento dell'acce gas EPS ultimamente è piuttosto aggressivo, manda dei solleciti, delle diffide eccetera. Questa cosa deve cessare. Nessuna diffida può essere accettata in queste condizioni. Noi siamo qui per una questione di legalità, e cioè chiediamo che la legge, in particolare l'esito del referendum, venga rispettato. Alessandro Punzo, ieri è arrivata anche una lettera da parte della cegassa EPS. La cegassa EPS Amaga, dopo i continui solleciti di pagamento che ci ha inviato in questi mesi, ha finalmente riconosciuto, accolto in toto le nostre richieste. Quindi direi vittoria su tutta la linea. Grazie. Come vi muoverete adesso? Beh, innanzitutto noi a breve faremo intanto una riunione nella quale cominceremo a valutare il nuovo scenario che si è aperto.